Per Orlandi, dopo l'amichevole, un altro 3-0, seconda uscita stagionale, qual è l'aspetto che le è piaciuto di più di questa gara e di questi giorni di ritiro? Questi giorni di ritiro, sicuramente il lavoro che stiamo facendo, perché ci sono carichi importanti, siamo nella seconda settimana e quindi anche l'attenzione che viene data a una partita di allenamento, quindi l'impressione è favorevole, dobbiamo ancora lavorare. Domenica ci sarà Luigi Razza e Siracusa per la prima vero test nel professionismo con la Coppa Italia di Serie C. Quanto è importante cominciare bene una competizione che negli ultimi anni ha dato anche spazio a posizioni privilegiate per quanto riguarda la griglia play-off? Certamente è una competizione che dobbiamo onorare, viene un po' presto secondo il nostro programma di lavoro, però bisogna farla, quindi cercheremo di farla al meglio. A noi serve anche per aumentare il minutaggio sui 90 minuti e quindi la affrontiamo con l'attenzione, con la giusta concentrazione, rispettando l'impegno che è una Coppa Italia e quindi noi ci teniamo anche ad andare avanti. In ottica campionato, lei pensa che la prossima stagione può essere più difficile rispetto all'anno scorso, proprio per l'inserimento di queste matricole, chiamiamole terribili, proprio come Vibonese, Potenza e un possibile ripescaggio della Cavese? Certamente sì, perché poi quelle che salgono dalla Serie D sono sempre delle incognite e la storia ci dice che qualche mina avagante la trovi durante il campionato. Fermo restando che è un campionato sicuramente dal mio punto di vista più competitivo rispetto a quello dell'anno scorso, soprattutto se poi nella formazione dei gironi, che ancora non sappiamo, ci saranno squadre appunto come il Catania, che anche se c'è una possibilità che possa essere ripescata, però se resta il nostro girone sicuramente la squadra da combattere da parte di tutti quanti, perché è una squadra attrezzata per salire. Grazie mister.